La direzione della Casa Circonale di Forlì è lieta di invitare la cittadinanza forlivese e nonna all'evento del 6 maggio intitolato Diamo un calcio alla violenza, in cui si vuole dare l'opportunità di sensibilizzare tutti quanti rispetto al tema della violenza di genere. Già dal 1 gennaio 2018 sono oltre 25 i casi di femminicidio, si tratta di un'emergenza sociale del momento, per cui la Polizia Penitenziaria e il suo direttore hanno inteso dare un contributo che culminerà con una donazione a un ente, a un'associazione del territorio. L'iniziativa di Martorano di Cesena del 6 maggio è importante perché vede un gruppo di persone, delle forze dell'ordine, quindi persone che hanno lo scopo di tutelare la legalità, affrontarsi in un torneo di calcio misto per sottolineare il tema importantissimo della lotta alla violenza di genere. L'idea è nata dal personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondareale di Forlì. Perché? Perché il personale di Polizia Penitenziaria a Forlì lavora a stretto contatto con gli autori di reati, che purtroppo spesso sono anche reati di violenza di genere. Quindi è impegnata nella loro trasformazione, nella loro rieducazione, affinché escano migliori ed escano avendo compreso il gravissimo errore che hanno compiuto.